Ansa, Milano, 8 gennaio, Roberto Maroni ha confermato alla riunione di giunta che non si ricandiderà per motivi personali alla presidenza della Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Maroni ha indicato nell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle elezioni del 4 marzo.